Il servizio Security Team, un piccolo esercito di 150 sorveglianti ingaggiato pochi mesi fa per aumentare la sicurezza sui treni di Trenord, è stato già smantellato al termine del periodo sperimentale concluso a febbraio. Il servizio proseguirà come previsto, assicura comunque il sottosegretario regionale Alessandro Fermi, la regione continua l'impegno per la sicurezza sui treni e nelle stazioni, a brevissimo, prenderanno servizio almeno 100 guardie giurate. Gli operatori del Security Team, non armati e dotati di una divisa verde, giravano tra stazioni e convogli. Contro l'interruzione di questo servizio e soprattutto contro la gestione del progetto, si è scagliato Vincenzo Del Vicario, segretario nazionale del Savip, il sindacato autonomo vigilanza privata. Queste persone, dice, hanno lavorato svolgendo un servizio di sicurezza per il quale non sono stati adeguatamente preparati, il loro impiego è durato solamente pochi mesi, poi tutti hanno perso il lavoro e dire che per poter essere assunti avevano dovuto frequentare pure a loro spese un corso di preparazione. Il segretario del Savip contesta anche le modalità di assegnazione del servizio, ora, aggiunge, stiamo a vedere cosa accadrà con le guardie giurate, non dimentichiamo che parliamo di soldi pubblici. Il sottosegretario Fermi, che con l'assessore regionale trasporti Alessandro Sorte aveva presentato a Como il progetto, ribadisce invece la validità del servizio. La sperimentazione ha dato buoni risultati, dice, e Regione conferma la volontà di impegnarsi direttamente per la sicurezza sui vivendo grattamente la strade sul l'assessore regionale,